Piccola nota così siete avvisati, questo video risale a 3-4 anni fa, quindi la qualità del commento li fa schifo, la qualità visiva del video pure e perciò vi ricordo non rappresenta la qualità attuale del canale, vi ricordo questo video di 3-4 anni fa, spettatore avvisato Andiamo avanti con l'explay e vediamo un po' cosa c'è dopo Meno male non c'è nulla sembra Oddio no scherzavo Sì ma io non posso, cioè io non arrivo a vent'anni di questo passo comunque Non mi ha dato neanche nulla, oh dammi qualcosa dammi, dammi qualcosa Oh ma io gioco a pallone con te, dammi qualcosa dammi Sei bello sei, dammi qualcosa Ok salvo E possiamo andare avanti Carina comunque era quel fare lì, vola 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 il necromorfo Vai Vai Ho visto un'ombra Ce ne sbattiamo Sbattiamocene che meglio Vai 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 vai, sbattitene No cos'era Oddio rumori molesti, salva Scusate se salvo sempre ma in caso di morte almeno Tanto mi sa che morirò un po' di volte No, ah davvero Eh scusa mi son confuso Computer di trasporto attivo Eh vai Tuttere vetture operative Arriva la pula, arriva la pula no ben siamo a bordo e ci dirigiamo verso il ponte ottimo lavoro si è tranquilli voi siete tranquilli la quarantena è cessata qualunque cosa ci fosse sul ponte di volo se ne è andata tanto ci provviva solo io bastardi scopriremo il possibile sul ponte e poi ti raggiungeremo là se saremo ancora vivi stai esagerando e non da questo un suicidio moriremo in questo ponte non ci godo se morite voi state tranquilli a giocare a dama o senza di te allora ci siamo capiti ma c'è qualcuno in camera mia oddio no meno male oddio che flash ho avuto un flash di qualcuno in camera mia giratevi un po' anche voi e controllate se in camera vostra c'è qualcuno dove stiamo finendo in paradiso cos'è le nuvole ma meno male almeno è finito tutto no no oppure fare un let's play di harry potter e l'ordine della fenice tranquillo semplice simpatico niente di che vieni qui vieni eh no eh non mi freghi bastardo mazza ea e non mi da neanche niente ma che bastardo fettente di m aperti aperti sei aperti stefano oh cos'è sto rumore cos'è sto rumore di splat 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 ah ok è dove abbiamo incominciato questa avventura non l'avessi mai fatto siamo arrivati al ponte qui è un bello ma qui no invece qui è qui è bellissimo qui è proprio un villaggio turistico apriti ci siete o no cagnolini no qua no aha mad pack aha c'è qualcosa qui ah ma ma eh cos'è minchia mad pack crediti e delle tazze per caffè no non le posso prendere mi dispiace ma ma le tazze per il caffè non le potrete prendere devo andare ok verso il ponte ma prima vado a salvare e così facendo ci vediamo nella prossima parte di video ciao ciao ragazzi bene ragazzi andiamo avanti con let's play allora dovrei andare di là giusto sì ah qui le cose le ho rotte tutte sì sì ok non mi cos'era spero niente no non mi non mi ricordavo benissimo perché la parte dalla 1 alla 7 le ho fatte ieri sera come come sapete quando ho guardato l'ora adesso sono le 7 e 14 e andiamo avanti dio no sento rumori basta cos'è no sono quelli che volano vola 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 il necromorfo no ancora vivo quanti c'è no dietro non voglio girarmi ah solo lui boom sembra strano ragazzi che ce ne sia solo uno eh che ce ne sia uno dentro niente oh non me lo ricordo sto pezzo dalla mia prima volta che l'ho fatto quindi sto attento no a posto caricare caricalo oddio no no fuggi oddio non si vede fuggi e e uno qua pensa poteva la nave esplodere insieme ai vari micromorfi che che ci passeggiavano sopra no e infatti tocca a me abbatterli questi faffanculo sta pure correndo come com'è che si gi- ah è vero mi- sti qua sti qua che c'hanno i pantaloni sono forti devo stare attento dietro ok guarda quanti cos'è cammina anche sulle mani non ha le mani non è un non può avere le mani è un necromorfo da quando in qua i necromorfi hanno le mani cos'è ma perché questa qui compare sempre quando meno opportuno ritorno l'unico modo per andarcene no no mamma mamma what are you fucking saying ha ha sistema di controllo ma no c'è un blocco esecutivo di tutti i sistemi primi ah ok senza l'autorizzazione del capitano non posso accedere allora dove è capitano non posso accedere ce l'è un po' larga capitano benjamin Mattius posizione infermeria stato deceduto eh ma no come dai cos'è ma sei paraplegico con i suoi codici di autorizzazione possa far funzionare questo computer mi sa che si esce da qua stavolta si ma si ma tranquillo tanto oddio oddio no no non aprite quell'ascensore no non l'aprite di solito quando c'è un negozio c'è calma va bene va bene togli la scritta non vedo ok un nodo questo qua potenzialmi giusto si ma ce l'abbiamo nodi no ce l'abbiamo nodi no appunto mi porto sfiga allora dovremmo ora partire però prima faccio un salto al negozio compro un po' allora cos'è che aveva detto da lì un etto di cotto allora 3 kg di pomodori oh se ci va pazzo neanche colpa sua povera ho 19.200 crediti posso prendermi la pistola multiraggio cos'è? una tranciatrice d'ampio raggio combina tempo e fucile impulse e un mitra giusto si e la tuta di livello 2 io io prenderei la tuta di livello 2 oh dove va? ecco mi do alla pazza moda considerate che la farò rosa shocking giusto per dare un po' di briga sapete vedremo come sarà il nostro figurino nella prossima grazie